Ciao a tutti, io mi chiamo Silvia, ho 21 anni, ho frequentato il Grandis in passato, mi sono diplomata in realtà da poco, ma in un batter d'occhio sono quasi vicino alla laurea, non a caso sto frequentando l'ultimo anno di infermieristica presso l'Università di Cuneo. E cosa vi posso dire sul Grandis? Sicuramente è una scuola che prepara su più fronti, non soltanto sulle materie prettamente umanistiche, ma determina una preparazione di tipo enciclopedico, quindi insomma una formazione che può aprirvi strade in futuro veramente molto ampie. Sicuramente se volete frequentare l'indirizzo che ho frequentato io, che è quello sociosanitario, dovete avere una predisposizione alla relazione con l'altro. Se siete persone timide non credete di non potercela fare, la timidezza si può tranquillamente vincere e scoprirete che con la relazione con l'altro troverete moltissimo. Quello che mi è rimasto è prevalentemente questo, sicuramente tutti gli insegnamenti di base e sono contenta di aver frequentato l'Istituto Grandis, in particolar modo l'indirizzo di cui vi ho parlato. Vi sento vivamente di consigliarvelo e vi auguro in bocca al lupo nella vostra scelta, ponderatela bene e nulla, a presto!